Buon pomeriggio, grazie innanzitutto dottor Frigeni dell'invito e grazie a tutti voi per la pazienza che avrete nell'ascoltarmi. Lo dico in anticipo così sono a posto. Rispondo subito alla domanda così poi vediamo un po' l'aspetto di San Benedetto. Dunque l'abate è il superiore di una comunità monastica. I monaci vivono in comunità che poi sono congregate fra di loro ma sono diversi dagli altri istituti religiosi, per cui non c'è un generale, un provinciale e poi le case come facciamo l'esempio forse più conosciuto, i frati. Invece ogni comunità vive un po' della sua autonomia, poi insieme si aiutano per qualcosa ma la figura di collegamento non è un vero e proprio superiore. Per cui l'abate ha questo nome anche perché San Benedetto vede i monaci come una famiglia e quindi il superiore è il padre. Abate significa appunto questo. Perché l'abate ha le insegne simili a quelle del Vescovo è una questione storica. Quasi sicuramente San Benedetto non portava, anzi sicuramente non portava queste insegne, ma lungo la storia siccome le abbazie sono diventate importanti, fulcri di spiritualità ma anche piano piano vedremo anche qualcosina del post San Benedetto, anche fulcri di centri economici e quindi anche un po' di potere. E allora sono diventati un po' di contraltare a un certo punto ai Vescovi e ai Diocesi e allora è stato riconosciuto loro e con le stesse insegne. La differenza è un po' difficile forse da comprendere ma il sacramento dell'ordine per chi appunto è cattolico si divide in tre. Diaconato, presbiterato, mi spuggeva il nome, ed episcopato. Ecco l'abate ha il diaconato e il presbiterato e più ha una benedizione nella quale vengono consegnate tutti gli insegni e per svolgere la mansione di abate di una comunità. Non ha il carattere dell'episcopato, quindi è equiparato ma non ha la stessa pienezza dal punto di vista dell'ordine. Poi come giurisdizione il Vescovo è su tutta la Diocesi e l'abate è sul proprio monastero. Ecco, quindi queste sono un po' le differenze. Dunque San Benedetto nasce nel 480 d.C., anche se la data non è certissima, abbiamo invece la data della morte certa, 547. In questi anni fa varie esperienze, ma soprattutto quella prima di giovane studente, nella zona di Roma, lui era un romano, poi si ritira perché fugge un po' l'impero in decadenza, una società abbastanza piena di difficoltà e allora vuole ritirarsi per dedicarsi solamente al Signore. Fa un'esperienza eremitica, quindi di solitudine, nelle zone di Subiaco, sempre nella zona laziale e poi nella maturità si trasferisce a Monte Cassino, dove costituisce la comunità che ha governato per un periodo più lungo e dove ha scritto effettivamente la regola. È frutto di tutta questa esperienza, ma ovviamente nella maturità della vita e muore lì poi a Monte Cassino. L'argomento di oggi, ora e te la bora, ma soprattutto per il percorso che state seguendo, più l'aspetto della bora. Volevo in partenza, poi approfondiremo, leggervi il capitolo della regola, sapete che la regola è divisa in 72 capitoli più un prologo, abbastanza lungo, ogni capitolo è un argomento della vita, oppure più capitoli raggruppo nell'argomento della vita dei monaci. Il capitolo 48 parla dell'argomento di oggi, in modo particolare, poi fa vari accenni anche in altre parti della regola. Non è brevissimo, ma volevo leggerlo per avere la cornice entro la quale ci muoviamo. L'ozio è nemico dell'anima, e quindi i fratelli devono in alcune determinate ore occuparsi del lavoro manuale, e in altre ore anch'esse ben fissate, nello studio delle cose divine. Perciò pensiamo di regolare i tempi dell'una e dell'altra occupazione con l'ordinamento che segue. Da Pasqua fino al primo ottobre, la mattina, da quando escono da prima, che è l'ora della giornata, ma è la prima ora di preghiera, quindi da quando escono da prima, sin quasi all'ora quarta, si occupino nei vari lavori necessari. Dalla quarta sino all'ora in cui celebreranno sesta, attendano lo studio. Dopo l'ora sesta, poi, quando si sono alzati da tavola, si riposino sui loro letti in perfetto silenzio. Se qualcuno, però, vorrà starsene a leggere da solo, legga pure per conto suo, ma in modo da non disturbare gli altri. E se celebri nona, un po' più presto, verso la metà dell'ora ottava. E di nuovo vadano i lavori assegnati fino a vespro. Se poi le condizioni del luogo o la povertà richiedono che gli stessi monaci si occupino nel raccogliere i frutti della terra, non ne siano malcontenti, perché allora sono veri i monaci, quando vivono col lavoro delle loro mani, come i nostri padri e gli apostoli. Tutto, però, si faccia con discrezione tenendo conto dei più deboli. Dal primo ottobre fino all'inizio della quaresima, attendano allo studio fino a tutta l'ora seconda. Finita questa, si celebri terza e fino a nona, tutti si occupino nel lavoro ad essi prescritto. Appena poi si dà il primo segnale di nona, ciascuno smetta di lavorare e si trovano tutti pronti quando suonerà il secondo segno. Dopo la rifezione, poi, attendano le loro letture o ai salmi. Nei giorni di quaresima, dal mattino fino a tutta l'ora terza, si diano le loro letture e poi, fino a tutta l'ora decima, si applicano al lavoro ad essi in posto. In questi giorni di quaresima, ciascuno riceva un libro dalla biblioteca e lo legga per ordine e da capo a fondo. Tali libri devono essere consegnati al principio di quaresima. Si pensi bene, poi, ad affidare ad uno o più signori il compito di girare per il monastero nelle ore in cui i fratelli attendono alla lettura e di osservare se per caso non vi sia qualche fratello fannullone che si dà all'ozio o alle chiacchiere e non si occupa nella lettura sicché non solo è inutile a se stesso, ma disturba pure gli altri. Se si trovasse, non sia mai, un fratello simile venga ripreso una prima e una seconda volta se non si emenda, soggiaccia al castigo regolare in tal misura che gli altri ne abbiano timore né un fratello si accompagna ad un altro nelle ore non permesse. Anche alla domenica si diano tutte la lettura eccetto quelli che siano assegnati all'uno o l'altro ufficio. Se poi qualcuno fosse così negligente e svogliato da non volere non poter studiare o leggere gli si imponga qualche cosa da fare perché non stia ozioso. Ai fratelli infermi o di delicata costituzione si assegni un lavoro o un'arte tale che da una parte li mantenga occupati e dall'altra non li opprima con la soverchia fatica e non li induca ad andare via. La loro debolezza deve essere dall'abate tenuta in considerazione. Questo capitolo ha come titolo del lavoro manuale quotidiano. Ecco, vedete, come già San Benedetto parla sì del lavoro poi ci sono altri passaggi che vi leggerò ma in questo capitolo si occupa soprattutto di trovare un equilibrio per ogni stagione per ogni situazione, per ogni momento anche della stessa giornata un equilibrio perfetto tra la preghiera che qui non è citata perché ci sono altri capitoli quasi 13 che parlano della preghiera tra la preghiera, il lavoro e la lettura. Infatti tanti studiosi dicono che il principio Oret elabora il motto Oret elabora che non è di San Benedetto ma è stato attribuito successivamente ai Benedettini andrebbe integrato con ora, legge e telabora. Ma prima di approfondire un po' l'aspetto di San Benedetto penso sia necessario fare un passo indietro vedere alcuni aspetti di chi l'ha preceduto per poi vedere appunto come San Benedetto parla in modo particolare del lavoro. Il monachesimo primitivo o monachesimo antico Il monachesimo primitivo scopre subito un valore spirituale dato al lavoro Per gli antichi monaci si tratta solo di lavoro manuale non c'erano altri tipi di lavoro altre forme non c'era il lavoro intellettuale anche perché la maggior parte dei monaci in questo periodo non erano colti non c'era il lavoro apostolico ministeriale come accade oggi perché la maggioranza perché tutti i monaci tranne uno o due solamente per il servizio di comunità erano laici mentre uno o due erano sacerdoti per il servizio appunto di comunità ma la maggior parte dell'esperienza del monachesimo primitivo è monachesimo anacoreta quindi monachesimo di solitudine di erenitismo e quindi non sacerdoti Lavoro significava per questi monaci quindi solamente lavoro manuale e grazie ai solitari e cenubiti diventò il lavoro manuale un valore positivo un valore aggiunto alla vita monastica che aveva come obiettivo principale quello di ritirarsi per lodare e contemplare Dio quindi il lavoro potremmo dire cosa c'entra e invece acquistano il lavoro come un valore positivo perché scaccia l'ozio perché aiuta a vincere quei momenti che ci sono all'interno di una giornata in cui appunto c'è una debolezza e quindi non si è più con la mente a Dio il lavoro tenere impegnate le mani tenere impegnato il corpo tenere impegnata la persona aiutava e quindi contribuiva ad essere un elemento importante anche per la contemplazione il lavoro in questo periodo è legato anche alla povertà i monaci come i più poveri come gli ultimi della società come gli schiavi in generale non tutti avete visto l'altra volta e non tutti i momenti vivono del lavoro delle proprie mani e quindi i monaci devono seguire questa linea questa idea schematicamente possiamo presentare così le motivazioni del lavoro per il monachesimo primitivo il lavoro diventa un elemento essenziale della vita monastica abbiamo visto appena detto appunto è qualcosa che si integra nella vita e nella giornata il lavoro ha più scopi non solamente uno provvedere al sostentamento del monaco o dei monaci se è in una comunità poter fare dell'elemosina ai poveri quindi il lavoro è anche con una finalità caritativa evitare il tedio l'ozio l'accidia e mantenere il corpo in attività in soggezione cioè non avere momenti di debolezza e di distrazione ma avere sempre un'attività grande quindi il lavoro manuale è caratteristico della vita monastica specialmente troviamo questo aspetto nell'ambito dell'Egitto ci sono i detti dei padri del deserto ci sono vari testi che ci raccontano questo ma in particolare si diffonde l'esempio di un monaco su tutti che noi conosciamo come Sant'Antonio Abate che ricordiamo in tante chiese raffigurato con il maialino un animalino ai piedi protettore delle stalle eccetera dei nostri più anziani che lavoravano nelle stalle eccetera era un monaco era un monaco detto anche Antonio il Grande padre di tante forme di monachesimo ecco nella celebre vita che è scritta la vita Antoni è scritta da Sant'Atanasio si dice che egli si ritirò nella solitudine per arrivare alla perfezione della vita ascetica e lavorare con le sue mani perché aveva sentito dire chi non lavora neppure mangi noi sappiamo che questa frase sentita dire non è solo sentito dire ma è un brano della seconda lettera ai tessalonicesi di San Paolo una parte di quello che guadagnava lo spendeva per comprare il pane il resto per soccorrere i poveri quindi l'idea del lavoro per accumulare non era lontanamente neanche nell'idea di Antonio e dei monaci più antichi negli Apovteg Matà cioè appunto i detti dei padri del deserto si racconta in più che egli imparò da un angelo la vita che la vita di un monaco è una successione tra preghiera e lavoro infatti avvenne un giorno preso dall'acidia preso dall'ozio supplicava il Signore di mostrargli la via della perfezione vede allora davanti a sé un altro Antonio un altro se stesso che era seduto e lavorava poi interrompeva il lavoro si alzava e pregava era un angelo del Signore mandato per correggere Antonio e dargli forza e coraggio questo angelo gli disse va e fai così anche tu e sarai salvo e allora Antonio capisce il lavoro e la preghiera in equilibrio quindi ciò che coglie poi San Benedetto è frutto anche di una tradizione che lui mette forse sistematicamente nella regola oltre a Antonio il Grande abbiamo anche altri monaci altre regole antiche velocemente alcuni aspetti abbiamo gli anacoreti copti sempre della zona dell'Egitto anacoreti appunto senza coro quindi stanno eremiti senza la dimensione comunitaria questi sollevano dedicare tutto il giorno e anche parte della notte alla confezione di ceste corde e stuoie mentre recitavano e meditavano la parola di Dio e facevano anche frequenti orazioni molti poi aiutavano anche i contadini nella raccolta delle messe e facendosi dare una parte una piccola quantità di grano per il proprio sostentamento e sempre per i poveri le esperienze invece cenobitiche quindi di comunità le abbiamo all'inizio con un altro santo monaco Pacomio i monaci di Pacomio erano dei grandi lavoratori coltivavano i campi esercitavano mestieri tutti compresi i superiori dovevano guadagnare il pane per sé e per i poveri anzi dobbiamo dire che i pacomiani rischiano a volte di peccare per eccessivo lavoro quindi diventa piano piano una dimensione di comunità un altro monaco sto andando velocemente ovviamente qui passano anche qualche secolo all'altro e passiamo da una parte all'altra con San Basilio passiamo più alla parte orientale sempre del nord d'Africa ma poi si svilupperà ad oriente i basiliani San Basilio è il più insistente e profondo legislatore e con proposito del lavoro ritiene più adatti alla vita monastica il lavoro di tessitore il lavoro di fabbro e altri lavori che esprimono un po' un'arte senza nascondere una sua preferenza predilezione per l'agricoltura che doveva da un lato mantenere e garantire la permanenza all'interno delle mura del monastero e coprire le necessità per la comunità monastica e sempre per i poveri ecco oltre a Basilio tanti altri padri scrittori monastici trattano questo argomento San Giovanni Crisostomo Cassiano San Girolamo Sant'Agostino ma non mi soffermo su tutti per riassumere possiamo dire che c'è una necessità del lavoro per questi monaci antichi non è un qualcosa di così opzionale all'interno della vita una necessità di due generi necessità spirituale quindi per combattere l'ozio necessità anche pratica perché in alcune situazioni era una forma di sostentamento se non l'unica per poter poi vivere per poter mangiare qualcosa le argomentazioni più forti le traggono dalla sacra scrittura ovviamente essendo modaci che meditano la sacra scrittura vediamo alcune fonti alcune frasi che ritornano più spesse una l'abbiamo già incontrata quella di San Paolo chi non lavora neppure mangi ecco un piccolo aneddoto che non c'entra niente con la storia del monachesimo ma fa sempre sorridere sapete che in tutte le parrocchie di questo mondo ci sono sempre dei lettori che salgono leggono durante la messa le letture eccetera in genere si preparano sono bravi qualche volta commettono qualche errore ecco una volta è accaduto che leggendo la seconda lettera dei tessalonicesi saltò la virgola il lettore e lesse chi non lavora neppure mangi bene infatti c'era stato un attimo di distrazione che è successo altra fonte chi avvezza a rubare è sempre San Paolo chi avvezza a rubare non rubi più anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie mani per farne parte a chi si trova nella necessità quindi lavorare con le proprie mani per farne parte a chi le ha necessità quindi tutti gli aspetti che un po' abbiamo visto altra fonte biblica gli atti degli apostoli poiché erano del medesimo mestiere si stabilì il soggetto San Paolo in casa loro cioè di Acqua e di Priscilla e lavorava San Paolo si è sempre vantato di questo infatti sempre un brano della seconda lettera dei tessalonicesi che tratta in modo particolare avete capito l'argomento del lavoro dell'impegno non solo della predicazione ma anche di mantenersi noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane alcuno ma abbiamo lavorato duramente notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi quindi l'impegno e la costanza nel lavoro sono elementi che tornano nella Bibbia andiamo un attimino nel monachesimo orientale piccola battuta e poi piano piano torniamo a San Benedetto anche qui non mancano anche qui nell'ambito orientale abbiamo il rapporto con il lavoro però vediamo subito che è un rapporto diverso la mentalità orientale è una mentalità più di ascesi più spirituale e quindi ha un approccio diverso con il lavoro i monaci orientali ritengono il lavoro manuale come indegno all'uomo spirituale incompatibile con la vita monastica bisogna vivere della provvidenza cioè delle mosine appare questo essere un segno di perfezione cioè il monaco si deve dedicare solamente alla contemplazione alla preghiera e quindi a diventare uomo di Dio naturalmente anche loro noi possiamo dire ma come dove hanno trovato queste queste idee così diverse anche loro conoscevano molto bene la Bibbia e si rifanno ad altri brani biblici un'evangelica di Matteo non affannatevi per la vostra vita di quello che mangerete o di quello che berrete è una frase di Gesù ancora del Vangelo di Giovanni procuratevi non il cibo che perisce ma quello che dura per la vita eterna sempre frase di Gesù il Vangelo di Luca Maria ha scelto la parte migliore non è Maria la Madonna ma Maria la sorella di Marta nella vicenda di Marta e Maria ecco Maria che si mette i piedi di Gesù ha scelto la parte migliore quella che ascolta ancora in San Paolo pregate senza interruzione ecco bisogna dire che questi monaci riducono al minimo anche le loro necessità quindi sentono anche meno il bisogno di lavorare spesso il lavoro per loro è una pura occupazione questi monaci orientali sono famosi anche per coloro che compiano costruiscono quelle ceste quei cestini invimini ma anche che li li intrezzano e tolgono l'intrezzatura cioè li fanno e li disfano per il lavoro per mantenere il corpo in movimento per non distrarsi nella contemplazione quindi non è un lavoro finalizzato a produrre a vendere ad avere qualcosa di sostentamento ma è un lavoro finalizzato alla contemplazione quindi per non distrarmi per mantenermi sveglio a volte nelle ore di veglia e allora lavoro in questo senso in questa direzione riassumendo il monachesimo antico quindi insegna e pratica la legge del lavoro fondandola sempre su testi biblici avendo due visioni diverse in ogni caso nell'uno e nell'altro quindi quello più occidentale che sarà quello più vicino a San Benedetto ma anche quello abbastanza orientale perché San Benedetto riconosce Basilio come uno dei padri anche della sua della sua regola ma nel monachesimo antico quindi insegna e pratica la legge del lavoro su questo non c'è non c'è dubbio la fonda su testi biblici abbiamo sottolineato l'importanza ecco il lavoro deve in ogni caso essere subordinato alla preghiera in modo tale che l'equilibrio tra lavoro e la preghiera che c'è deve avere una preeminenza per l'uomo interiore cioè il lavoro comunque anche quando è lavoro anche quando serve per il sostentamento e serve anche per dare poi qualche offerta ai poveri deve essere qualcosa che eleva anche lo spirito che quindi aiuta comunque a contemplare il Signore e poi deve essere visto in rapporto all'obbedienza e alla carità all'obbedienza perché il tipo di lavoro viene indicato dall'abate per ogni monaco e alla carità perché appunto deve essere lasciato in ogni caso qualcosa anche per i poveri i monachesi hanno dovuto guardarsi sin dall'inizio due rischi opposti da un lato a volte il troppo lavoro quindi la grande attività la dissipazione la ricchezza erano un po' i monaci di San Pacomio dall'altro il poco lavoro quindi la vita fare una vita di rendita fare una vita di oziosità ecco due rischi che si ripeteranno per tutti i secoli e anche oggi ecco è la stessa cosa trovare un equilibrio mirabile tra ora ed labora veniamo allora a San Benedetto che situazione abbiamo nel quinto sesto secolo dopo Cristo dove un periodo in cui San Benedetto vive ecco la situazione del lavoro dei monaci era cambiata rispetto al monachesimo privitivo non risulta che i primi monaci in occidente quelli di Martino San Benedetto trova già in occidente dei monaci quelli di San Martino non risulta che lavorassero della sua comunità si dice che non si esercitava alcun mestiere se non quello di scrivano a cui inoltre venivano adibiti i più giovani mentre gli anziani si dedicavano esclusivamente all'orazione così Cassiano un altro monaco che ha scritto parecchi libri parecchi documenti si lamenta che i monaci in occidente non lavorano molto in questo periodo tutte le regole monastiche occidentali sembrano supporre il lavoro come elemento costitutivo ma non è un lavoro intenso non è un lavoro come i primi tempi è un lavoro solamente che riempie alcuni momenti della giornata non è finalizzato ad una attività non è scusate un'attività economica quindi che abbia un introito il lavoro in questo periodo sembra essere diventato anche un problema quale lavoro perché lavorare ma soprattutto quale lavoro perché c'è tutto sommato anche se siamo nel periodo di decadenza un po' dell'impero romano c'è una certa però sicurezza economica perlomeno rispetto questo al monachesimo antico e quindi c'è anche una certa rilassatezza c'è da mangiare insomma i monasteri sorgono anche non solo perché una persona parte e va si isola e poi lì arrivano dei discepoli ma anche perché si trovano già delle piccole costruzioni o perché ci sono dei templi pagani che vengono convertiti o perché si trovano delle zone abbandonate qualche insediamento viene risistemato quindi si parte già da una base un po' più solida un po' più forte c'è però una stanchezza che è prodotta dall'osservanza i monaci vivono molto mangiando poco quindi con il digiuno e questo crea una difficoltà a poter affrontare alcuni tipi di lavoro perlomeno i più pesanti una certa inabilità che risulta dalla debolezza del corpo le contive condizioni di salute anche non permettono di avere grandi lavori e anche l'estrazione sociale dei monaci cominciano a giungere nei monasteri monaci provenienti anche dalla nobiltà e quindi i primi discepoli o comunque non sono solo i primissimi ma i primi che si ricordano sono Mauro e Placido tutti e due vengono a due famiglie patrizie e quindi i monaci che entrano venendo da una certa condizione sociale abbracciano accettano alcuni tipi di lavoro per loro non è normale andare a lavorare nei campi o fare altri lavori pesanti e quindi cambia un po' ecco la mentalità all'interno dei monasteri nel periodo di San Benedetto una premessa importante ancora è quella legata a una fonte della regola di San Benedetto che è la regola magistri cioè la regola del maestro chi sia questo maestro non si riesce ad attribuire però è una regola che girava abbastanza nei monasteri e veniva applicata in vari monasteri quindi quelli di San Martino e i precedenti la regola magistri è illuminante perché vuole il lavoro manuale ma esclusivamente per evitare l'ozio non c'è assolutamente una riga che parli del lavoro dei campi perché perché se bisogna lavorare i campi c'è la necessità poi di dover dispensare dalla legge del digiuno perché le due cose non possono stare in piedi e neanche i monaci riescono a stare in piedi si legge nella regola magistri è meglio conservarli sto parlando i possedimenti del monastero non essere fidati secondo la regola e secolari è meglio conservarli lasciando la preoccupazione ad altri e percepire con sicurezza delle rendite annuali senza pensare ad altro che all'anima di fatti se facessimo coltivare campi e fratelli spirituali imponendo loro lavori pesanti essi perderebbero l'abitudine di digiunare perciò come lavoro del monastero ci sia solo qualche mestiere e l'orto quando si dice qualche mestiere si intende le arti quindi o la prima abisaglia degli emanuenzi le scrittoria eccetera ma vedremo più là e alcune attività manuali con il legno eccetera fabbro ecco queste attività appunto legate più all'artigianato noi diremmo oggi e l'orto l'orto per ricavare quel poco appunto per la tavola per il maestro anche l'orto in verità è un compito un po' ingrato infatti lo lascia solamente a quei fratelli che non si sono impegnati o non hanno potuto o voluto imparare un mestiere il capitolo dedicato al lavoro nella regola magistra dell'ottantaseiesimo rivela la mentalità monastica dell'epoca e di cento anni circa prima di San Benedetto affidare ai secolari la coltivazione dei campi occuparsi solo dei lavori manuali e meno pesanti in modo di non dover lasciare ai monaci la possibilità di togliersi la regola dei digiuni ecco questa del digiuno torna spesso oggi magari per noi è una cosa un po' particolare ma la forma del digiuno era la forma di penitenza più alta e quindi la dimensione del digiuno era fare penitenza per conformarsi a Cristo che ha patito anche sulla croce eccetera quindi c'è questa dimensione che per noi magari oggi è un po' più difficile da comprendere o anche da vivere ecco San Benedetto San Benedetto risente ovviamente di questa mentalità è su questa linea anche lui però vedremo che introduce qualche novità il lavoro manuale che è considerato da San Benedetto lasciamo perdere un attimo il lavoro dei campi che poi emergerà più tardi non è il lavoro pensato anche da San Benedetto per il sostentamento dei monaci l'ortosi poteva bastare per la cucina ma niente di più per quanto riguarda le arti e i mestieri c'è il capitolo 57 di San Benedetto la regola benedettina ne parla con tanti condizionamenti con un po' di distacco se per caso ci sono degli artigiani in monasterio se l'abate lo permette che loro si possano applicare le arti se c'è da vendere qualche prodotto del lavoro degli artigiani si venda a prezzo minore in quanto lo vendono i secolari eccetera cioè c'è tutta una dimensione insomma non è così importante il lavoro dei mestieri invece come lo era importante nella regola magistri quindi San Benedetto da un lato si trova in linea con il monachesimo del suo tempo dall'altra però c'è una certa svolta c'è un po' la paura nella regola magistri di poter evitare il digiuno questa paura non c'è più in San Benedetto anzi c'è la possibilità di avere maggior cibo se c'è un maggior lavoro e la possibilità di compiere anche dei lavori pesanti a proposito appunto del cibo San Benedetto legato all'aspetto del lavoro ci sottolinea se per caso si fosse compiuto un lavoro più gravoso del solito l'abate avrà piena facoltà se gli sembrerà opportuno di aggiungere ancora qualche cosa alla rifezione e così anche per quanto riguarda il bere se poi la condizione del luogo il lavoro speciale o il calore quindi la condizione del luogo il lavoro speciale e anche se il calore dell'estate richiedesse un supplemento superiore abbia facoltà di darlo per quanto riguarda appunto le bevande e come abbiamo ascoltato prima lo ribadisce anche in un altro capitolo il 41esimo circa digiuni San Benedetto pensa così da Pentecoste per tutta l'estate se i monaci non hanno forti lavori campestri l'eccessivo caloro non lo impedisce il mercoledì e il venerdì digiunino fino a nona cioè fino alle tre del pomeriggio più o meno negli altri giorni pranzino a sesta ma se avranno lavori nei campi o se il caldo dell'estate sarà soverchio anche in questi due giorni il pranzo sarà a sesta quindi permette più di una volta ecco San Benedetto che ci siano delle eccezioni non è così rigido come lo era invece come lo era la regola del maestro infatti tutto il capitolo 48esimo che abbiamo ascoltato per intero prima l'inizio del lavoro quotidiano dei monaci ha un'impostazione sin dall'inizio diversa da quella della regola del maestro la regola del maestro fissa l'orario e l'orario è visto la luce dell'ufficio divino cioè dei vari momenti di preghiera della giornata in San Benedetto l'orario ha uno scopo più pratico e quindi cambia anche a secondo delle stagioni dei momenti San Benedetto considera piuttosto il ritmo della vita umana l'alternarsi del riposo e dello sforzo il lavoro spirituale e il lavoro manuale la lettura alternata alla preghiera alternata al lavoro a un certo punto del capitolo quarantottesimo che abbiamo ascoltato prima c'è questa frase questa parte centrale su cui ritorniamo se poi le condizioni del luogo o la povertà richiedono che gli stessi monaci si occupino nel raccogliere le messi non ne siano malcontenti perché allora sono veri monaci quando vivono del lavoro delle loro mani come i nostri padri e gli apostoli c'è una particolarità in questa frase se poi le condizioni del luogo il latino inizia con un sì perché allora sono veri monaci quando vivono ancora c'è un sì però questo sì regge due verbi diversi mentre la prima parte è condizionale cioè congiuntivo ma nel senso dà una condizione se quindi non è un qualcosa di determinato invece sotto perché allora sono veri monaci quando vivono del lavoro delle loro mani quindi qui esprime un concetto forte una verità forte per San Benedetto sono veramente monaci quando da qui possiamo cogliere un principio generale che San Benedetto applica poi in varie parti della regola laddove c'è sempre la dimensione appunto del lavoro San Benedetto inculca questo principio generale che è della vita monastica ma possiamo dire anche della vita cristiana cioè uno è veramente monaco quando lavora con ricava quindi la possibilità di vivere e sostenersi con il lavoro delle proprie mani il lavoro agricolo San Benedetto si vede costretto a introdurre anche l'aspetto del lavoro agricolo nella regola parla più volte di lavori pesanti per cui ammette dei supplementi anche alimentari abbiamo visto riscopre San Benedetto e ripropone l'ideale monastico antico cioè la grande legge del monachesimo primitivo mantenersi con il lavoro manuale che poteva essere anche il lavoro dei campi qualsiasi tipo di lavoro San Benedetto convince questo abbiamo visto legandolo come hanno fatto i nostri padri e gli apostoli e le citazioni sono le solite che abbiamo visto dal punto di vista biblico come hanno fatto i nostri padri i nostri padri intende appunto i monaci antichi laddove l'aspetto però di riferimento come hanno fatto i nostri padri e gli apostoli non si riferisce direttamente al lavoro agricolo ma direttamente al lavoro quindi è la necessità del lavoro che emerge in San Benedetto non tanto quella del lavoro dei campi San Benedetto vuole provare la necessità di lavorare e che il lavoro sia un momento importante della vita del monaco che sia il lavoro dei campi che sia il lavoro delle arti se concessi dall'abate che sia il lavoro diciamo più intellettuale abbiamo come sfondo nella regola anche se non se ne parla mai direttamente ma come sfondo nella regola già l'aspetto del lavoro della biblioteca il lavoro nell'escriptoria il lavoro di trascrizione eccetera che si svilupperà in modo forte nel monachesimo successivo l'ideale antico che riscopre e che propone San Benedetto appunto non solo occuparsi nel lavoro più o meno utili perché l'ozio è nemico dell'anima ma vivere veramente del lavoro delle proprie mani mette insieme lega le due cose quindi non solo la motivazione diciamo negativa io lavoro perché così non cado nell'ozio ma anche quella positiva vivere del proprio lavoro come i padri e gli apostoli quindi in San Benedetto possiamo dire ripartendo dal capitolo 48esimo sul lavoro quotidiano il 57esimo sugli artigiani che ho letto a sprazzi possiamo fare un affondo velocemente perché questo è interessante questo è più breve di quelli che esercitano un'arte nel monastero se nel monastero vi sono fratelli esperti in qualche arte la esercitano pure ma con tutta umiltà e solo con il consenso dell'abate se però qualcuno di loro si insupervisce per la perizia che ha nell'arte sua perché crede di portare un utile al monastero costui sia tolto dall'esercizio da quell'arte e non sia più ammesso salvo che non si umigli e l'abate non glielo permetta di nuovo se poi qualche prodotto del lavoro di tali artigiani si debba vendere quelli che hanno l'incombenza di trattare la cosa siano cauti a non commettere alcuna frode si ricordino sempre di Anania e Safira perché la morte che questi subirono nel corpo essi e tutti quelli che avranno defraudato le sostanze del monastero non abbiano a soffrirla nell'anima non gli stessi prezzi poi si insinua il vizio della cupidigia ma si venda sempre a prezzi più inferiori a quelli correnti fra i secolari perché in tutto sia glorificato Dio quindi anche l'esercizio dell'arte con l'umiltà l'obbedienza eccetera senza che sia un riempimento di orgoglio da parte del monaco ha una finalità appunto di valutare rivalutare il lavoro da un lato ma dall'altro anche quello che abbiamo detto una motivazione negativa di vincere appunto l'ozio quindi abbiamo il capitolo quarantottesimo del quotidiano questo sugli artigiani il sessantaseiesimo che parla della portineria e ha un aspetto un appendice dove sottolinea che tutto ciò tutta l'attività lavorativa deve svolgersi all'interno del monastero quindi questo è un altro principio forte per San Benedetto l'orto il mulino le attività delle stalli i campi eccetera devono essere all'interno per quanto riguarda i monaci all'interno del monastero questo per evitare che ci siano dissipazioni si vada vagando qua e là eccetera eccetera e ci sia sempre il tempo necessario per raggiungere il coro per il momento della preghiera da questi tre capitoli da quello che abbiamo detto ecco possiamo forse riassumere in questo modo innanzitutto che il lavoro per San Benedetto è un ascesi il lavoro è uno strumento di perfezione il lavoro ha e riacquista una dignità è un cammino di perfezione vince l'ozio c'è anche tutto questo aspetto ma soprattutto è il momento di ascesi anche il lavoro partecipa della ricerca di Dio che è il motivo principale per cui i monaci sono in monastero e la necessità del lavorare non è che uno può lavorare o lasciar perdere la necessità del lavoro un altro aspetto che il lavoro sia disinteressato cioè e anche per non serve principalmente per produrre economia per fare soldi per avere un ricavato disinteressato nel senso che da un lato non ci deve essere un appassionamento al lavoro per cui io vivo del lavoro e a tempo perso vado a pregare il Signore nelle ore stabilite deve essere esatto contrario e poi appunto non ci deve essere un legamo economico tanto è vero che i prodotti anche delle arti dei mestieri vengono venduti a prezzo inferiore questo non per vincere la concorrenza e poi l'altro principio che ho appena ricordato che emerge in capitolo 66 il lavoro monastico tende un po' all'autarchia all'autonomia cioè la clausura che per San Benedetto è importante ma per tutto il monachesimo e la stabilità il monaco deve rimanere il più possibile nel luogo sono due elementi che condizionano ecco il lavoro e le modalità di lavoro il capitolo 66 nella parte centrale dice così il monastero poi deve essere possibilmente organizzato in modo che al suo interno si trovi tutto l'occorrente ossia l'acqua il mulino l'orto i vari laboratori per togliere ai monaci ogni necessità di girellare fuori o di gironzare secondo le traduzioni il che non giova affatto le loro anime quindi ad un certo punto i monasteri erano dei veri propri villaggi dove appunto le mura si sono sempre più ampliate anche secondo il numero dei monaci che abitavano e dove all'interno c'era proprio tutto pensate i salti mortali che dovremmo fare oggi per rispettare questa indicazione della regola per cui non ci mettiamo a fare il pane ce lo facciamo portare almeno non andiamo in bottega abbiamo visto il prima di san benedetto volevo fare un piccolo abbiamo ancora del tempo anche perché ho chiesto magari poi in 5 minuti 10 minuti di farci vedere il monastero magari l'avete già visto però qualche qualche flash un quarto alle 5 allora ci abbiamo ancora del tempo va bene o non vi interessa va bene ecco vediamo adesso alcuni assalti abbastanza veloci alcuni momenti post san benedetto per vedere un attimo poi vi dico anche cosa facciamo oggi appunto è quello che mi veniamo a comprare a prezzi bassi veniamo da voi allora no 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 il pane non ce lo facciamo portare non lo facciamo più purtroppo purtroppo allora facciamo dei piccoli salti e poi arriviamo passiamo per secoli velocemente per vedere un po' come è evoluta questa cosa e poi vediamo cosa combiniamo oggi l'evoluzione nel corso dei secoli ecco i monaci lungo i secoli si sono sempre posti varie domande rispetto al lavoro allora innanzitutto quale lavoro solo manuale solo quello intellettuale perché poi adesso nei secoli che andiamo a vedere iniziano anche le attività intellettuali come conciliarli con questi due elementi di clausura e di stabilità e come evitare gli eccessi del poco del tanto lavoro e gli eccessi anche del lavoro fatto fuori dal monastero perché poi inizia anche un'attività di questo genere abbiamo dei modelli abbiamo conosciuto tutti Cluny ecco il modello Cluny-Accense è un modello sconvolgente da questo punto di vista il lavoro chi se lo ricorda nel senso si altera completamente l'equilibrio tra preghiera e lavoro soprattutto verso i novecento gli anni del novecento anche metà dall'ottocento novecento cioè si toglie al lavoro quella dimensione santificante di perfezione di così di sforzo di lavoro perché perché per Cluny per la dimensione Cluny-Accense ciò che conta soprattutto e ciò che è il monaco in modo particolare è colui che loda Dio per cui ci sono delle cronache del monastero di Cluny in cui si raccontava che nelle grandi solennità terminate le grandi e solenne celebrazioni del coro era l'ora del pranzo si andava con croce candelieri e vestiti con i paramenti al pranzo veloce perché poi bisogna tornare in chiesa perché c'era ancora la ripresa di altre preghiere era talmente grande il tempo dedicato alla preghiera all'adorazione eccetera eccetera per cui ecco il lavoro diventa una cosa minima il lavoro principale era quello dei sacristi si toglie quindi questa dimensione da vita del monaco è consacrata esclusivamente all'ufficio divino un altro elemento importante che cambia le attività cambia lo stile dei monasteri è la clericalizzazione della vita monastica abbiamo visto all'inizio sono quasi tutti laici il tempo di San Benedetto dice nella regola ci siano uno o due sacerdoti per il servizio della comunità con il Medioevo diciamo intorno al mille novecento mille già con Cluny c'è la clericalizzazione cosa vuol dire? vuol dire che molti monaci accedono agli ordini sacri perché i monaci sono essenzialmente consacrati a Dio cioè consacrati vuol dire fanno una professione di dedicare tutta la loro vita nella preghiera nel lavoro e nella meditazione poi si aggiunge a questo per chi vuole anche la consacrazione diaconale presbiterale la clericalizzazione vuol dire che molti chierici quindi molti acquistano acquistano pardon molti accedono all'ordine sacro questo cambia le attività diventano attività di lavoro tra virgolette perché hanno un loro contributo anche le attività liturgiche cioè è il periodo in cui prima del mille per paura della morte che tutto finisca eccetera dopo per ringraziamento e per fare in modo che l'anima sia garantita anche in futuro una preghiera continua si offrono tantissime celebrazioni cioè ci richiedono tantissime celebrazioni di messe e si offrono denaro oppure lasciti e monasteri eccetera e quindi diventa un'attività anche la celebrazione delle messe di suffragio se voi vedete le chiese di questo periodo sono costruite con tantissimi altari perché non c'era la concelebrazione ritornata solo dopo il concilio Vaticano II ogni monaco celebrava al proprio altare e c'era la necessità di alternarsi perché erano talmente tante le celebrazioni delle messe che un monaco trascorreva anche la sua giornata e momenti di lavoro a celebrare due, tre, quattro messe al giorno per assolvere tutte le richieste che venivano fatte ai monaci e venivano appunto trattate in modo serie nasce così una distinzione tra i monaci ci sono i monaci di prima classe e ci sono quelli di seconda classe che sono i conversi cioè adesso ho fatto per battuta prima classe e seconda classe ma a un certo periodo storico è veramente così i conversi sono coloro che per poca cultura o per scelta o per altri motivi non accedono all'ordine sacro e quindi sono coloro che fanno i lavori manuali ma non perché sia migliore uno o l'altro ma perché gli altri erano occupati a celebrare l'ufficio per il suffragio eccetera quindi cambia tantissimo all'interno dei monasteri e appunto i conversi i lavori agricoli i vari mestieri gli altri sono dedicati alla liturgia questo porta l'eccesso 8-900 per i monasteri che rimangono perché in Italia prima Napoleone poi lo Stato Italiano ha fatto piazza pulita comunque più mestieri in Europa che rimangono questa divisione diventa fortissima tanto è vero che addirittura i monaci quando si riuniscono in comunità in capitolo si dice per discutere qualcosa poi votano eccetera eccetera potevano accedere solo i monaci con gli ordini sacri mentre gli altri non potevano nelle monache questa divisione è ancora più forte Cistercensi una branchia del monachesimo seguendo l'onda di San Bernardo vuole tornare all'interpretazione più fedele della regola quindi in contracolpo a Cluny vuole riportare il lavoro l'equilibrio tra preghiera e lavoro e quindi si riabilita il lavoro manuale che per i Cistercensi è esclusivamente agricolo cioè è una riforma che va nella radicalità voi avete ecceduto da una parte noi vogliamo rimettere l'equilibrio di San Benedetto e nascono in questo periodo le grange cioè queste oggi le chiameremo le aziende agricole che nascono all'interno però dei monasteri poi il modello viene portato fuori il secolo XII vede purtroppo l'arricchimento dei monasteri per donazioni lasciti per quel motivo che ho detto prima il purtroppo è derivato dal fatto che allora ci si sta un po' più comodi più tranquilli il lavoro perde nuovamente il suo senso il suo significato e la giatezza non è mai una cosa buona neanche nei monasteri anzi soprattutto c'era c'era c'è stata con grande sfarza alcune volte vediamo alcune chiese alcune costruzioni riforma funziona sempre così allora San Guglielmo i Virginiani San Pier Damiani San Giovanni i Gualberto San Silvestri i Silvestrini riforme di altri gruppi di monaci che fanno tornare il monachesimo a una dimensione diciamo più con i piedi per terra con il lavoro che riprende il suo senso più profondo e anche la povertà incontraltare a quello che si diceva casualmente il secolo successivo ecco abbiamo passato in questi periodi del medioevo degli alti e bassi ritorniamo ad una situazione invece di agiatezza l'economia riparte è un'economia che non è più agricola e quindi non c'è più la possibilità neanche di reggersi solamente con la dimensione dell'agricoltura e quindi si accettano volantieri questi lasciti perché in questo momento non si sa come affrontare la cosa si apre ad una via nuova cioè l'apertura al servizio del popolo il cosiddetto monachesimo urbano i monaci i monasteri si aprono ad un'attività anche pastorale cosa che prima non era mai accaduta il monachesimo se voi vedete i monasteri salvo qualche eccezione tra cui c'è Pontida i monasteri solitamente sono o in cima della montagna o dentro una valle che per arrivarci bisogna fare una fatica in mane in verità anche Pontida dentro una valle però attorno si è costruito poi tutto quello che erano le abitazioni di coloro che lavoravano le grandi distensioni di terreno che il monastero aveva in questo periodo e quindi si è formato poi il paese di Pontida in sintesi cosa succede successivamente arriva il lavoro intellettuale non siamo qua metto il secolo XIV non è che arriva in quel periodo ma ha un grande spessore soprattutto in questo periodo fioriscono le scuole monastiche quindi le scuole dedicate in modo particolare ai monaci quindi la scuola claustri ma anche quella canonica quindi anche quella dedicata o externa che è separata dalla prima è aperta a tutti quindi da un lato c'è l'apertura del monachismo urbano dall'altro anche quello intellettuale gli scrini di cultura che nel frattempo si sono mantenuti conservati nei monasteri diventano ecco alla portata di dico di tutti ma sapete che non è così cioè solamente di coloro che avevano la capacità la possibilità economica di poter accedere il detto diventa ormai una cosa riconosciuta monasteri un sine armario quasi castro un sine armamentario questo sta scritto in tantissime biblioteche e quindi questo ci dà ecco quella aurea poi di coloro che hanno conservato e portato avanti la cultura eccetera eccetera ce lo traduca ah un monastero senza libri è come un castello senza armi quindi il castello deve averle per la difesa per eccetera ecco il monastero senza i libri è vuoto non ha nessun senso ecco ai tempi di San Benedetto poteva essere applicato solamente ad esempio ai testi biblici niente di più poi si è sviluppata c'è tutta una cultura che si è appunto mantenuta e trasmessa ecco lo vediamo adesso nei secoli successivi con produzioni da parte di monaci Beda Alcuino Paolo Diacono San Pier Damiano che abbiamo già visto Sant'Anselmo San Bernardo anche fino ai Maurini in area francese con Mabionne ma ancora oggi i monaci producono riflessioni culturali eccetera ma ciò che ci viene riconosciuto da questo punto di vista è la conservazione e la trasmissione della cultura la conservazione quindi la semplice trascrizione dove si interezza il lavoro manuale e quello intellettuale qui sarebbe sufficiente saper scrivere per copiare mentre il lavoro prettamente intellettuale è un'elaborazione di uno scritto è un prodotto diverso da quello che io sto leggendo ovviamente quindi l'escrittoria cioè i luoghi dove venivano trascritti o venivano prodotti questi testi delle grandi aule nei monasteri più o meno grandi come questa molto più alte con in genere il focolare perché era necessario avere la mano un pochino calda per vergare e poi anche perché la maggior parte dei testi era scritto anche nei secoli precedenti al XIV era scritto su pergamena quindi c'era anche la necessità di avere delle temperature e un clima particolare non troppo umidità eccetera eccetera anche se l'umidità ai tempi c'era in abbondanza anche oggi però abbiamo riscaldamento che lo risolve quindi un'ottima sintesi questi dell'escrittoria tra lavoro intellettuale e manuale anche qui però c'è una componente di ascesi per la pazienza nel trascrivere eccetera eccetera e la maticolosità l'assiduità pensate io sono stato tre anni gli ultimi tre anni nel monastero di Cava dei Tireni lì c'è un codice un volume bello alto che un monaco ha scritto riportando vari testi ha trascritto veramente riportando vari testi di leggi monastiche antiche eccetera e alla fine ha fatto una grande miniatura un grande disegno sull'ultima pagina per donarlo al proprio abate da un lato c'è l'abate in trono eccetera come era un po' il medioevo dall'altro c'è il monaco che si è raffigurato con due teste una testa da giovane monaco giovincello senza barba eccetera e l'altro un monaco anziano con la barba ecco è sempre lui per significare che sto libro mi è costata una vita e quindi ecco anche perché aveva all'interno altre miniature eccetera eccetera vabbè forse questa parte del concilio eccetera possiamo possiamo saltarla se non siamo troppo avanti con i tempi come vuole magari un accenno facciamo un accenno velocissimo cioè oggi noi come monaci moderni diciamo così come monaci del giorno d'oggi contemporanei più moderni abbiamo a che fare con una una sottolineatura un aspetto del lavoro che recupera un po' quella originaria di San Benedetto ma dall'altra in un certo senso introduce delle novità il concilio di Cano II ha sconvolto la vita a tutti dal punto di vista strettamente ecclesiale e quindi abbiamo da confrontarci con altri aspetti che sentiamo oggi più vicini cioè l'uomo con il suo lavoro partecipa anche alla dimensione della creazione realizza se stesso esprime se stesso nel lavoro questa cosa era inaudita per il monaco perché non poteva inorgoglirsi di una sua opera tutto ciò era compiuto sempre dalla comunità le monache che conservano ancora le tradizioni non dicono mai che loro hanno una loro penna la mia penna la mia stanza noi le chiamiamo celle la mia cella eccetera ma se voi andate in una monaca di clausura a trovarla parlate un attimo capite che a un certo punto lei dirà sì ero nella nostra cella sì ho preso la nostra penna il nostro posto e uno si chiede ma queste abitano sempre in due no abitano in uno ma per non dire che è mia quindi la proprietà quindi lo sganciarsi completamente usano il nostro a un certo punto dice anche la nostra madre che sarebbe la madessa e c'era una monaca lì del lavoro la risurrezione è anche il risultato del lavoro il lavoro fatto per qualcuno Cristo dà la vita per noi quindi il lavoro è fatto per non è qualcosa solamente singolare personale Cristo è anche l'uomo del lavoro viene sottolineato l'aspetto di lui che è stato per tanto tempo con San Giuseppe anche lui fa legname eccetera eccetera il lavoro è anche un esercizio della carità nel lavoro ci si aiuta ci si sostiene ci si accompagna il lavoro sviluppa anche il regno dei cieli nel senso sviluppa la comunità il regno dei cieli noi pensiamo subito a quello che verrà ma il regno dei cieli è anche la chiesa che cammina oggi quindi si sviluppa amplifica la riflessione qui il lavoro è intellettuale e manuale nello stesso tempo infatti si supera il dualismo tra lavoro manuale e lavoro di qualsiasi altro genere o lavoro intellettuale lavoro delle arti eccetera perché il lavoro in sé ha un suo ruolo un suo compito e quindi ecco oggi il monaco ha delle domande delle situazioni da affrontare innanzitutto è un monaco è un uomo del suo tempo e quindi deve confrontarsi e relazionarsi con questo deve dare una testimonianza oggi di un lavoro serio di un lavoro impegnato e c'è la mentalità che dicono vabbè quelli stanno dentro lì mi fermo qua abbiamo già capito però ecco c'è il lavoro all'interno di questa comunità che non è immediatamente redditizio questo ci dovrebbe però far pensare tantissimo oggi dove il lavoro è soldi uguale soldi purtroppo ci sono persone che vivono il lavoro in modo diverso vivono il lavoro a lote a Dio vivono il lavoro in comunità vivono il lavoro anche per sostenersi per carità ma non per fare un guadagno per prendere di più eccetera eccetera per vivere e anche regolato durante la giornata non ci sono gli straordinari monastero non esistono proprio ma perché non è dell'uomo ci sono degli orari basta la cosa che non finisce oggi si fa domani ma non per dire e vabbè c'è ancora un domani e ancora un altro no ma nel senso ecco non deve esserci l'ansia del lavoro il lavoro è in equilibrio con la preghiera per noi ovviamente e quindi ecco combatte questa idolatria del lavoro al fine di possedere sempre di più quali lavori allora oggi i monaci innanzitutto anche oggi i monaci per essere veri monaci lo dice San Benedetto quindi questo ci tocca devono vivere del lavoro delle proprie mani quindi del proprio lavoro e questo abbastanza diffuso in tutti i monasteri creme cremine pomate unguenti liquori amari sono alcune delle attività ecco che si svolgono in vari lavori devono stare sul mercato anche loro quindi si 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 anche se è un mercato un po' particolare nel senso che non trovate nei supermercati i prodotti monastici almeno ah si si certo certo si l'informazione c'è l'informazione c'è si 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 no produzione di liquori no poi vi dico cosa facciamo noi neanche le preghi dopo sentiamo dopo vi dico dopo sentiamo tutta potenza ecco una cosa importante ogni tipo di lavoro qualsiasi esso sia deve permettere al monaco di essere fedele alla sua vocazione quindi prima di tutto c'è sempre l'ora e anche il legge e poi il labora evitare i lavori affannosi che sorbono completamente le energie perché il monaco lavora già permettete questa espressione tre ore e mezza al giorno pregando e lodando Dio questo è il primo lavoro se vogliamo leggerla con la mentalità di oggi poi c'è il secondo lavoro possiamo dire così evitare la mancanza di lavoro che può condurre all'ozio il rischio c'è il rischio c'è l'abate deve guardare vigilare assegnare lavori compiti eccetera perché l'uomo è uomo anche se è monaco quindi se un giorno riesce a stare a riposare non si lamenta sicuramente quindi trovare l'armoniosa combinazione tra l'opus Dei cioè la preghiera l'alezio divina cioè la lettura la meditazione delle cose di Dio cioè della Sacra Scrittura e il lavoro come San Benedetto appunto prevede a conclusione possiamo dire che per il monaco allora il lavoro è inserito in una visuale di fede ovviamente ricondotta quel mistero pasquale di morte e risurrezione di Cristo tenendo ben presenti gli aspetti da una parte di fatica di sacrificio dall'altra parte di creatività di realizzazione in questo mirabile equilibrio tra i vari elementi della sua vita questa piccola ricetta non l'ho messa nella slide perché mi è venuta troppo tardi ma potrebbe essere tradotta in modo meno monastico più forse laicale o antropologico per l'uomo di oggi il lavoro dovrebbe essere inserito in una visuale di senso deve avere un significato del mio lavoro oltre a quello dei soldi ricondotto alla verità dell'essere uomo dell'essere persona tenendo ben presenti sia l'aspetto di fatica e di sacrificio che c'è nel lavoro non devo cercare solo i lavori per cui presumo che ci sia meno fatica e sacrificio ma anche di creatività e realizzazione il lavoro che è stare davanti ad un computer otto ore e inserire dati forse non è lavoro questo in un mirabile equilibrio con tutti gli altri elementi della propria vita quindi con una sfera anche spirituale con la dimensione familiare con la dimensione della società di una comunità in cui ogni uomo è inserito quindi potrebbe essere una ricetta anche per l'uomo di oggi anche per l'uomo di oggi di un'uomo di oggi Grazie.